Buonasera, abbiamo aspettato i soliti pochi minuti per permettere a tutti di collegarsi. Il tema di oggi è i rapporti con il potere. Allora, nella Iace di Sofocle una voce, un personaggio dice Iace, mio signore, non c'è per gli uomini un male più terribile della sorte cui non è possibile sfuggire. Quindi il vero potere nella vita degli uomini probabilmente è la tuche, è la sorte, è quello che noi non possiamo né conoscere ovviamente né conoscere. Allora, una cosa che i giovani, gli studenti, gli adolescenti, ma anche gli adulti devono imparare è che è inutile fare opposizione a quello che la vita ci riserva. E' a quello che il potere di altri, di altre cose ci riservano. C'è una sindrome che viene chiamata quella del collezionista di ingiustizie, cioè di coloro che per tutta la vita dicono mi hanno fatto un affronto, ma questo non è giusto, sono stati ingiusti con me e così via. Incapaci di affrontare gli eventi, le cose che capitano, i problemi con i loro strumenti e comunque con gli strumenti più opportuni. diventare forti, la fortitudo, la forza d'animo è qualcosa che i ragazzi devono imparare, perché con il potere e con i poteri adesso ne vedremo non tutti quelli che sono presenti nei Promessi Sposi, ma quelli che mi sono parsi i più significativi, col potere noi abbiamo a che fare. E chi ha l'illusione di poter controllare la propria vita in percentuale alta sbaglia. Il self-made man è un'utopia ed è elemento anche di grande frustrazione. Ricordo che fra gli altri Nausicaa disse a Ulisse, Zeus Olimpio è naturalmente salto, a te ha dato questo e bisogna anche tu lo sopporti. Nella vita quello che bisogna imparare è affrontare i problemi, superare i dolori, le sofferenze e sempre a testa alta. Parlavamo di dignità l'altra volta, ricordate. Adesso possiamo partire. Il primo personaggio da cui partiamo è Italo Calvino. Italo Calvino che ha elaborato due schemi che adesso stiamo per vedere, che si riferiscono al potere. Attorno a Renzo e Lucia, ho scritto questa breve cosa, e al loro contrastato matrimonio, le forze in gioco si dispongono appunto in una figura triangolare. Che sono il potere sociale, il falso potere spirituale e il potere spirituale vero. Italo Calvino, nel centenario della nascita non potevamo esimerci dal riferirci a lui, divide in qualche modo il romanzo in due parti. Nella prima parte le forze di potere sono il potere spirituale padre Cristoforo, il potere sociale rappresentato da Don Rodrigo e il falso potere spirituale, cioè quello che avrebbe dovuto essere e non è stato, da Don Abbondio. Nella seconda parte del romanzo, invece, è saltato Maurizio, dovrebbe tornare indietro, grazie. Il triangolo ha questi seguenti vertici. Il vero potere spirituale è rappresentato dal cardinal Borromeo, il potere sociale dall'innominato e il falso potere spirituale dalla monaca di Monza. Come vedete, c'è una sorta di innalzamento di qualità e di forza di potere nella seconda parte del romanzo rispetto alla prima. Il padre Cristoforo è un vero potere spirituale, ma indubbiamente meno potente del cardinal Borromeo, Don Abbondio è un falso potere spirituale, qui è un po' forzato, a mio avviso, l'avvicinamento. Comunque, la monaca di Monza, badessa di un convento, certamente non svolge il suo ruolo come dovrebbe, quindi è un falso potere spirituale. E Don Rodrigo, l'abbiamo già anticipato, ricordate lo scorso incontro, è certamente meno potente dell'innominato. Ma a questo punto io sto per raccontarvi una storia, che qualcuno di voi, qualche professore negli incontri manzoniani che ha ottenuto a Milano in maggio, ha già conosciuto, ma che forse è sconosciuta alla maggior parte dei presenti e di chi poi si collegherà. Da dove nasce l'interesse di Manzoni per il potere, per la violenza del potere, per il potere sbagliato, per l'ingiustizia? Beh, probabilmente, niente noi possiamo dire con certezza, nasce da una storia familiare. Allora, sappiamo che Pietro Manzoni è il marito di Giulia Beccaria, Pietro Verri, e il padre di lei, Cesare Beccaria, si mettono in qualche modo d'accordo e la fanno sposare a un nobilastro della Brianza, Lecchese, che ha un po' di soldi, due sorelle terribilmente noiose e bigotte, una casa anche a Milano e ha molti anni più di Giulia. Pietro Manzoni ha una villa nelle Chene, adesso vedremo, e la biblioteca della villa è piena di carte, di libri e di documenti e il giovane Manzoni, che tutte le stati andava a Brusulio per passare le vacanze, indubbiamente ha avuto a che fare, ha messo le mani in queste carte, in questi documenti. E la storia interessante nasce proprio con Giacomo Maria Manzoni, che è il quadrisavolo appunto di Pietro. E la storia di Giacomo e dei suoi discendenti è una storia, dicevo, nera. Ed è nera e terribile, è crudele e criminale, anche per un'epoca criminale come il Seicento. Giacomo Maria viene da Barzio, nasce nel 1575, prende casa al Caleotto ai margini del borgo di Lecco e costruisce una villa che poi sarà la villa che frequenterà anche Alessandro Manzoni durante le sue vacanze. I guai di Giacomo Maria con la giustizia. Possiamo andare avanti? C'è stato un inceppamento. Vabbè, io vado avanti quando riusciamo a cambiare immagine, lo vedranno anche gli ascoltatori. I guai con la giustizia iniziano nel 1612 quando il podestà di Lecco condanna Giacomo Maria perché è implicato in un assassino. Quindi nasce nel 75, 25 più 12 a 37 anni. Non ancora quarantenne, Giacomo Maria comincia a avere a che fare appunto con la giustizia. Otto anni dopo, nel 1620, viene coinvolto, come complice del fratello Giovanni Maria nell'omicidio di un debitore insolvente. I metodi mafiosi sono già presenti. E Giacomo Maria, badate bene e pensate soprattutto alle figure di Don Rodrigo e dell'innominato. Giacomo Maria, per condurre la sua attività, si circonda di bravi che utilizza e di nuovo la connotazione di metodo mafioso è evidente, bravi che utilizza per minacciare i debitori insolventi e per difendere i suoi operai e per fare delle sorte di guerre private appunto contro i concorrenti. ma viene assolto, badate bene, questa è la, in realtà la seconda di tutta una serie di assoluzioni e il, la memoria di quello che è accaduto in questi anni appena passati che sta ancora accadendo credo che sia molto chiara. Viene, Giacomo Maria viene assolto, il fratello, visto che i soldi li hanno, paga una ammenda, una multa di 300 scudi e può evitare anche la prigione. Ma il momento eh nevralgico della storia criminale di Giacomo Maria Manzoni è fra il 1630 e il 1631 e sono gli anni, guarda caso, della grande peste. Eh adesso salto, poi leggerete, possiamo andare avanti, eh leggerete con calma eh da soli. Eh in sintesi la storia è che eh viene implicato in un processo per un tori eh ma di fatto ne resta i margini. Chi cade nella rete della giustizia ovviamente sono due deboli, due poveracci di fatto. Eh Francesco Manzoni per niente parente di Giacomo Maria ha detto il bonazzo, un bell'uomo e Caterina vengono accusati di aver propagato la peste vengono sottoposti a tortura disperati per sottrarci la tortura confessano e vengono condannati a morte eh con modalità assolutamente atroci. Giacomo Maria eh viene arrestato gli vengono confiscati i beni e eh gli incartamenti passano al tribunale di Milano viene accusato appunto di stregoneria di safileggio e di pestifere unzioni ma guarda guarda Giacomo Maria è ricco è potente ha protezioni potenti e la giustizia dice ma sarà poi vero le accuse sono eccessive sono mirabolanti rivediamo gli incartamenti e eh il tribunale di Milano incarica eh Bossi eh Marco Antonio Bossi di rivedere tutto l'iter processuale eh il 2 dicembre del 31 Bossi consegna la sua inquisizio e guarda caso tutte le accuse cadono eh Giacomo Maria Manzoni è innocente le accuse che gli sono stati rivolte sono false e tutta è colpa di un suo rivale meno potente eh Ambrogio Arriconi che eh aveva fatto in modo che i ragazzini accusassero falsamente il povero Giacomo Maria che pienamente riabilitato riprende eh le sue attività anche quelle criminali possiamo andare avanti non finisce qui nel 1635 allora vogliamo fare mente locale a personaggi che sono passati sia per la storia italiana anche nei decenni appena trascorsi sia nella storia di altri paesi americani a caso insomma o oppure anche di altre nazioni dalla Cina alla Russia non ha importanza eh quali possano essere nel 35 è accusato di aver eh commissionato eh l'assassino di un suo parente poi ancora nel 40 altro processo è accusato di aver fatto assassinare un componente della famiglia rivale eh che è Luigi Arregoni viene incarcerato col figlio Pasino eh e due servitori che poi sono gli esecutori materiali eh del delitto allora la famiglia Manzoni riparte compatta e invia guarda guarda al gran cancelliere al senato di Milano e lo vedete in eretto un lungo memoriale che ricostruisce tra l'altro tutte le fasi della supposta persecuzione che da lungo tempo l'innocente Giacomo Maria subiva da parte dei suoi nemici concorrenti Luigi Arrigoni è stato assassinato per questione di donne e tutti dicevano che aveva seduto tante ragazze quindi la causa della sua morte è da ricercare altrove ben lontano da Giacomo Maria non finisce nemmeno nel 40 la storia di Giacomo Maria con la giustizia ma la morte sopraggiungerà presto il 10 marzo del 42 muore in casa sua legato con una catena d'oro per carità la sua ricchezza deve accompagnarlo anche nella tomba è il povero Giacomo Maria Manzoni vittima di tante calunnie di persecuzione da parte della giustizia insomma vita naturale durante nonostante tutto quello che ha commesso la scampa i suoi guai con la giustizia durano più di trent'anni allora questa storia l'ho trovata e adesso possiamo ecco esatto in un fascicolo in un libretto che sono gli atti del convegno il Manzoni la proto industria all'epoca dei promessi sposi e l'autore di questa meravigliosa storia di questo meraviglioso rinvenimento è Gianluigi D'Acco il titolo della sua relazione in questo convegno è alle origini dell'industria lecchese e dei promessi sposi non so quanti abbiano letto di voi letto questo testo per chi non l'avesse fatto consiglio comunque di andarlo a vedere lo potete trovare anche su internet ho messo nella medesima schermata tutta una serie di altri riferimenti bibliografici a conforto e supporto di quanto andiamo dicendo nella schermata che avete adesso davanti agli occhi ci sono e ancora più forte sarà quella seguente ci sono alcuni elementi che confortano il fatto che proprio nella biblioteca della villa di Brusuglio Manzoni abbia nel Caleotto Manzoni abbia cominciato a elaborare l'idea dei promessi sposi che andiamo presente che il primo primo nucleo è la storia di una colonne infame che poi uscirà nel 40 ma è un testo che elabora piano piano senza mai abbandonarlo nel tempo allora il primo nucleo dei promessi sposi dicevamo adesso che è la storia della colonne infame e mora e piazza i protagonisti di questa storia che Manzoni peraltro muto anche da ripamonti vengono ingiustamente condannati come il bonazzo e la rozzona e sono identici gli elementi della narrazione in luoghi e i tempi la peste del 30 il salto alcune cose ci sono altri elementi forse meno forti però insomma anche le coincidenze che appaiono flebili possono essere significative richiamo l'ultima la compagna di Lucia seduta da Don Rodrigo nella prima stesura del romanzo il ferme Lucia si chiama Betta come la figlia del bonazzo che è sedotta dal nobile Arrigoni e ci sono però altri elementi molto più forti che vediamo nella prossima schermata allora la descrizione che si trova nella storia della colonna infame contro mora e piazza è esattamente parola per parola la traduzione in italiano di quella descritta in latino dalla inquisizio di Marco Antonio Bossi la leggiamo Franciscus Bonazius e Caterina Rozzona ambo super curru impositi è terrificante questa descrizione ducti ad patibulum intervias forficibus candentibus vellicati manum potenziori ob truncati ed in loco patibuli in rota vivi in texti post sex orase jugulati finaliter combusti e incinerem conversi inviciniorem amnem visipati il testo della colonna infame è questo messi su un carro è proprio la traduzione letterale condotti al luogo del supplizio tanalighiati con ferro rovente per la strada tagliata loro la mano destra spezzate le ossa con la rota e in quella intrecciati vivi alzati da terra dopo sei ore scannati bruciati cadaveri e le ceneri buttate nel fiume termino qui anche se sarebbe piacevole divertente continuare a indagare su quanto abbiamo appena detto passiamo adesso più strettamente al romanzo perché mi sono soffermata su questa storia perché l'origine del modo in cui Manzoni viveva il potere vedeva il potere molto probabilmente anzi con probabilità altissima risale proprio agli anni della fanciullezza dell'adolescenza quando frugava e leggeva in queste carte il potere è ingiusto il potere degli uomini è infame sovente è violento è crudele e non rispetta minimamente i canoni valori della giustizia quanti tipi di potere ci sono beh come ho anticipato prima ne vediamo alcuni ripeto non sono tutti e invito i professori che vogliano divertirsi a indagare o a fare indagare i ragazzi su altri personaggi magari altri tipi di potere e il potere primario lo sappiamo bene è quello delle parole e poiché le parole sovente e lo sappiamo bene ingannano ho intitolato questa sorta di potere proprio il raggiro delle parole Buddha diceva che le parole hanno il potere di distruggere di creare e se sono costruttive gentili amorevoli possono cambiare il mondo il potere delle parole è assolutamente sconvolgente e va ben al di là di quanto i ragazzi ma anche gli adulti abbiano in mente ho riportato nella seconda parte dell'immagine un frammento di un testo che io vi invito ad andare a leggere è di Vera Gheno il potere alle parole perché è assolutamente necessario che si impari che le parole hanno un peso ha un peso peraltro anche il tono il modo il volume con cui vengono pronunciate leggo brevemente essere consapevoli in fatto di lingua è essere liberi parlare di lingua è parlare di società e di politica è anche e forse soprattutto questo il potere delle parole ed è per questo che non bisogna sottovalutarne la potenzialità la lingua è potere la decisione rispetto a quali debbono essere la corretta conoscenza e competenza linguistica di un popolo non può essere lasciata alle sole classi dominanti che chiaramente tenderanno alla conservazione dello status quo in alternativa possiamo tutti indistintamente rimboccarci le maniche e riprendere coscienza di quanto sia importante il saldo possesso degli elementi linguistici che ci rende cittadini a nostra volta più potenti devono imparare a parlare ma ovviamente come Cicerone insegna devono prima ancora imparare a pensare il momento dell'invenzio quello che precede l'enunciazione formale sia scritta che orale ovviamente è fondamentale il possiamo andare avanti il primo esempio che noi incontriamo nella possiamo andare avanti e andare anche oltre l'immagine grazie di Don Abbondio e Renzo il primo momento divertente gioca sovente Manzoni con i suoi personaggi in cui troviamo il reggiro delle parole ovviamente è quando Don Abbondio cerca di esimersi dallo sposare Renzo e Lucia e si arrampica come diremo sugli specchi leggo dal secondo capitolo e poi e poi e poi che cosa e poi c'è degli imbrogli degli imbrogli che imbrogli ci può essere e il povero Don Abbondio dice ma insomma dovresti metterti nei miei panni tu che non sei nei miei panni non puoi capire io ho gravissimi problemi e scendiamo nella seconda parte dell'immagine noi poveri curati siamo tra l'incudine e il martello voi impaziente mi compatisco povero giovane e i superiori basta non si può dire tutto e noi siamo quelli che ne andiamo di mezzo ma chiede il povero Renzo mi spieghi una volta cos'è quest'altra formalità che sa da fare come dice e sarà subito fatta sapete voi quanti siano gli impedimenti di rimenti ma che volch'io sappia di impedimenti error condizio votum cognazio crimen cultus disparitas vis ordo ligamen onestas si sis affinis cominciava Don Abbondio contando sulla punta delle dita ma si piglia gioco di me interruppe il giovane che vuole che io faccia del suo latinorum dunque se non sapete le cose abbiate pazienza e rimettetevi a chi le sa si può raggirare chi non sa si può far tacere chi non sa rispondere è per questo che le masse incolte vanno dietro a chi si serve di raggiri delle parole avete visto la sequenza è il famoso latinorum che è ipercitato dice ma cosa volete che io ne sappia di quello che sta dicendo io non capisco beh allora se non capisci allora sta zitto obbedisci e rimettiti a me che so un altro incontro eccolo nell'immagine di cui protagonista sempre Renzo e non casualmente è quello con Azzecca Garbugli possiamo andare avanti allora il credo di Azzecca Garbugli come era stato aveva provato ad essere quello di Dona Bondi è mai mettersi contro i potenti ricordo che Azzecca Garbugli è il soprannome di un avvocato di Lecco che è chiamato nelle prime edizioni del romanzo dottor Pettola e il dottor Duplica nel vocabolario di Francesco Cherubini Azzecca Garbugli è lo scioglitore di nodi in realtà non scioglie niente ricordo e ho ricordato ho messo qua che il termine è già stato usato da Niccolò Machiavelli che in un passo delle legazioni appunto scrive voi sapete che i mercatanti vogliono fare le cose loro chiare e non Azzecca Garbugli possiamo andare avanti grazie allora Renzo arriva da Azzecca Garbugli con i suoi capponi in mano che gli aveva dato Agnese e cerca sul suggerimento proprio di Agnese di trovare un modo per far sì che il veto imposto da Don Rodrigo a Don Abunglio possa essere aggirato nella prima parte della schermata siamo ancora nel momento in cui Azzecca Garbugli crede che Renzo tutto vestito così festosamente così bene al modo poi peraltro dei bravi dice leggo dal neretto se la cosa si deve decidere tra la giustizia e voi perché ritiene Renzo appunto un bravo così a quattro occhi state fresco io vi parlo d'amico le scappate bisogna pagarle se volete se volete passarvi la liscia danari e sincerità fidarvi di chi vi vuol bene obbedire far tutto quello che vi sarà suggerito come vedete la modalità con la quale Azzecca Garbugli si rivolge a Renzo è assai simile a quella con cui Don Abunglio si era rivolto in precedenza a lui affidatevi a me ci penso io perché tu non sei in grado però Renzo che resta un attimo disorientato dice vedete le righe sotto beh insomma io sono non un attore ma una vittima è quel prepotente di Don Rodrigo Azzecca Garbugli ha un soprassalto e capisce di aver preso un abbaglio e saltiamo ancora un paio di righe è via che mi venite a rompere il capo con queste fandonie il tono cambia immediatamente fate di questi discorsi tra voi altri che non sapete misurare le parole e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono andate andate non sapete quello che vi dite io non mi impiccio con i ragazzi non voglio sentire discorsi di questa sorte discorsi in aria ma le giuro andate vi dico che volete che io faccia dei vostri giuramenti io non centro me ne lavo le mani e se le andava stropicciando come se le lavasse davvero imparate a parlare non si viene così a sorprendere un galantuomo imparate a parlare quindi la mancanza di conoscenza delle parole di un linguaggio adeguato e ovviamente di un contenuto cui linguaggio rimanda è il punto di forza di chi raggira con le parole adesso passiamo a un altro tipo di potere non sto facendo non sto per fare discorsi cosiddetti da femminista cerco di essere il più ragionevole obiettiva possibile perché se una cosa non è mai stata ancora fatta nel tempo nei millenni e forse in nessun luogo o in pochi luoghi del globo terraqueo è la condivisione giusta e ragionevole del potere tra maschi e femmine ricordo che ovviamente Manzoni come autor nasce si forma e scrive in una cultura potentemente maschilista la trasmissione dei beni avviene per linea maschile le donne non possono come già nel mondo romano non possono avere controllo neppure sulla loro dote quindi sulle sostanze familiari non hanno diritto di voto e dobbiamo aspettare il nostro dopoguerra e nelle istituzioni non hanno alcun potere istituzionale sì certo la storia racconta di donne rare scarse che hanno avuto potere ma di influenzare le decisioni maschili assai di rado vabbè Elisabetta prima d'Inghilterra non so una Cristina di Svezia e altre rarissime donne hanno avuto direttamente il potere nelle mani possiamo risalire addirittura a Cleopatra e andando forse ancora indietro ma la massa la quasi totalità ne è stata estromessa accenno soltanto al più plateale chiaro violento comportamento maschile ma lo riprenderemo nel terzo incontro in cui parleremo più da vicino della violenza non posso ovviamente esimermi da far riferimento al padre della monaca di Monza che nella storia è Martino de Leiva che traccia una storia familiare e decide il destino della figlia nel momento stesso in cui ella viene al mondo questo tipo di violenza dell'anticipo questo tipo di potere è potere su cui invito vivamente i docenti e anche non docenti ovviamente a soffermarsi è quello che io chiamo il potere di fare terra bruciata intorno sono solo io che ti amo io decido per il meglio io decido per te e si fa terra bruciata intorno alla persona in modo che alla fine ella creda davvero che l'unico salvatore sia chi in quel momento le condiziona la vita ho riportato qua ecco vediamo quattro immagini che rappresentano in diacronia quattro momenti della vita di Virginia però ripeto in dettaglio ci torniamo al prossimo incontro quando da piccolina viene fatta giocare con bambole vestite da suora quando a pochi anni le viene detto ah guarda che vita meravigliosa ti aspetta sarai la badessa sarai una principessa passiamo alle seguenti poi quando adolescente il padre le dice è arrivato il momento di prendere i voti e lei prova a ribellarsi e infine nella quarta immagine quando disperata il padre le ha fatto fino a quel momento in realtà da quando è nata una violenza spaventosa viene cacciato il servitorello le viene messa a guardia una vecchia e così via lei sentendosi sola e disperata si inginocchia ai piedi del padre e chiede perdono il fare terra bruciata è un comportamento che si rivela presente in molti casi di violenza domestica e di femminicidio è per questo che non è affatto ancora passato la prossima fermata ho messo soltanto poche frasi e le possiamo leggere in anticipo assieme quando il principio la principessa il principino l'erede che solo dei maschi veniva allevato in casa volevano lodare l'aspetto prosperoso della fanciullina pareva che non trovasse il modo da esprimere bene la loro idea se non con le parole che madre padessa nessuno però le disse mai direttamente tu devi farti monaca ecco perché parlavo di potere subdolo era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri se qualche volta la gerrudina trascorreva qualche atto un po' arrogante imperioso al che la sua indole la portava molto facilmente tu sei una ragazzina le si diceva queste maniere non ti convengono quando sarai madre padessa allora comanderai a bacchetta farai alto e basso quindi il compenso di questo potere subdolo è facciamo in modo che tu a tua volta eserciti potere il seguente è il potere della massa come vedete l'immagine che qua vi ho riportato è quello ovviamente dell'assalto ai forni siamo nel capitolo tredicesimo dei promessi sposi e badate la lucidità e l'attualità ma le opere d'arte ripeto sono soltanto una lente di ingrandimento che non è attuale o superata ma è sempre valida in ogni luogo in ogni tempo guardate la lucidità e l'esattezza con cui Manzoni descrive appunto la massa qua io mi fermerei e leggerei tutto il testo perché è oggetto di necessaria meditazione avete visto cosa è successo ieri avete visto cosa sta succedendo viene bombardato un ospedale parlano di 500 morti e subito gli animi si infiammano ci sono Giordani Rane e così via perché si ritiene che il bombardamento sia stato effettuato dagli ebrei pare che io non non prendo parte non lo so sarà oggetto di indagine vedremo alla fine dell'indagine però punti insomma che hanno una qualche autorevolezza dicono che si tratta invece di un razzo che per errore impazzito è stato lanciato da Mass e è caduto sull'ospedale certamente chiunque l'abbia lanciato la cosa è terrificante ma mi riferisco alla reazione della piazza immediata che è sovente irragionevole non aspetta ovviamente l'esito di una conoscenza corretta di quello che è accaduto si infiamma e parla nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero di uomini che o per un riscaldamento di passione o per una persuasione fanatica o per un disegno scellerato o per un maledetto gusto fanno di tutto per rispingerle cose al peggio propongono promuovono i più spettati consigli soffiano nel fuoco ogni volta che il principio è languidire non è mai troppo per costoro non vorrebbero che il tumulto avesse né fine né misura questa è una grandissima lezione che ai ragazzi va data i ragazzi poi prendono fuoco facilmente non è giusto è nella loro natura la passione certamente prevale di gran lunga sulla ragione beh insegnare l'attesa non partire mai in quarta chi forma poi la massa è quasi il materiale del tumulto è un miscuglio accidentale di uomini che più o meno per gradazioni indefinite tengono dell'uno e dell'altro estremo un po' riscaldati un po' furbi un po' inclinati a certa giustizia come l'intendono loro un po' vogliosi di vederne qualche duna grossa pronti alla ferocia e alla misericordia a detestare e ad adorare secondo che si presenti l'occasione di provare con pienezza l'uno o l'altro sentimento avidi ogni momento di sapere di credere qualcosa grossa bisognosi di gridare di applaudire a qualche d'uno o di urlargli dietro viva e moia sono le parole che mandano fuori più volentieri e che è riuscita per sodergli che un tale non meriti di essere squartato non ha bisogno di spendere più parole per convincerli che sia degno di essere portato in trionfo attori spettatori strumenti ostacoli secondo il vento pronti anche a stare zitti quando non sentano più grida da ripetere a finirla quando manchino gli stigatori a sbandarsi quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto andiamo e a tornarsene a casa domandandosi l'uno con l'altro che è stato perché non capiscono solamente siccome però questa massa avendo la maggior forza la può dare a chi vuole così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua e per impardonirsene perché forse non accade adesso così c'è un passo nei promessi sposi che mi ha ricordato molto da vicino anche la storia del covid sono gli effetti della diffusione di false notizie nella massa allora questa volta non leggiamo ma passiamo avanti dall'inizio della pestilenza di manifestarsi dei sintomi della pestilenza le autorità sono caute perché temono di prendere decisioni temono effetti sulla massa allora dico ma no no non è niente è curabile già certo se voi se voi andate a leggere la storia della madre di Cecilia vedrete che anche lei credendo alle autorità sanitarie non si è rallontanata da Milano ma è una cosa che si può curare passeggerano la prendono tutti e poi morirà con le sue due bambine e le notizie false date alla massa o parzialmente false che è ancora peggio perché se sono parzialmente false contenendo in parte la verità possono essere credute vere le notizie date dalle istituzioni parlavo del covid e della pestilenza ma è riferibile a qualunque ambito sociale politico economico e quant'altro possono essere devastanti perché la massa non ha potere critico questo è un dato di fatto abbiamo tutti il diritto di voto ma sono pochi ahimè coloro che lo fanno scientemente e a ragion veduta e adesso c'è un pezzetto delle osservazioni sulla morale cattolica che io al posto di alcuni professori che magari mi stanno ascoltando porterei velocemente in aula è il settimo capitolo e Manzoni scrive certo ci sono poche cose e le corrompano tanto un popolo quanto l'abitudine dell'odio così questo sentimento non fosse fomentato perpetuamente da quasi tutto ciò che ha qualche potere sulle menti e sugli anni l'interesse l'opinione i pregiudizi le verità stesse tutto diventa agli uomini una opportunità per odiarsi a vicenda appena si trova alcuno che non porti nel cuore l'avversione e il disprezzo per delle classi intiere dei suoi fratelli appena può accadere ad alcuno una sventura che non sia cagione di gioia per altri e spesso non per alcun utile che ne venga loro ma per un interesse ancora più basso quello dell'odio confesso di vedere con maraviglia messi tra i pervertitori di una nazione in questo senso e come in capo alla lista i casisti ai quali finora non avevo sentito dare altro incarico che di voler giustificare quasi ogni opera e ogni persona che di insegnare a non odiare nemmeno il vizio già e qui ritorniamo a una cosa che abbiamo già anticipato l'altra volta la necessità di conoscere e di provare compassione e di esercitare il perdono l'odio beh alla radice della guerra fra Russia e Ucraina no ho sbagliato forse non alla radice ma una connotazione potente alla radice le motivazioni sono ancora parzialmente oscure una connotazione forte è l'odio che russi e ucraini che pur vivevano insieme in molti casi hanno provato l'uno per l'altro in alcuni casi no in molti casi no riuscivano a parlare russo essendo ucraini e viceversa a convivere serenamente ma alcune sacche manovrate manipolate continuavano a dire tu hai ucciso mio fratello devo uccidere il tuo e così via e perché adesso tra palestinesi e israeliani e perché in altre parti del mondo proprio questo odio che spesso è generato da una cosa su cui tra poco arriveremo il ho citato cosa che si riallaccia quanto detto prima il potere negativo della comunicazione istituzionale e velocemente passiamo alle forme positive del potere allora il potere positivo a me pare di così che sia così con grande chiarezza è quello che aiuta a costruire che pensa al benessere dell'altro che nega due delle tre fiere dantesche la superbia ego super omnes io soprattutto io prima di tutti è l'egocentrismo e la lupa ovviamente l'abilità allora il potere positivo di cui faremo alcuni cegni si può esercitare in vari modi e può essere esercitato da persone in modo consapevole e autorevole come Federico Borromeo o in maniera inconsapevole da persona non autorevole come accade a Lucia un potere fortissimo e lo sappiamo religio instrumentum regni la religione come strumento di potere è la religione e noi abbiamo quattro figure significative di potere poi ce ne sono altre minori diciamo dei tipi di personaggi assolutamente secondari sono ovviamente Federico Borromeo padre Cristoforo il padre provinciale la monaca di Monza la differenza tra questi quattro personaggi è tangibile Federico Borromeo è l'alto prelato che viene da famiglia principesca quindi nasce già con il potere e con l'aureola in qualche modo del comando Federico Borromeo è quello che nel romanzo nella realtà però non è esattamente così lo vedremo nell'ambito della storia della monaca di Monza la prossima settimana nel romanzo è un animo altissimo è un santo di fatto padre Cristoforo quindi non ha cambiato da quando è nato è sempre stato così autorevole potente e santo chi invece è cambiato ovviamente è padre Cristoforo prima al secolo Ludovico poi dopo l'uccisione della persona con cui si scontra in duello diventa padre Cristoforo e spiega i suoi peccati e diventa santo ma veramente santo nella seconda parte della sua vita poi abbiamo il politico il politico quello che si incontra con il conte zio al pranzo indetto dal conte zio su richiesta di Don Rodrigo e che soccombe fine politico cerca di difendere padre Cristoforo fino all'ultimo ma soccombe di fronte alle ragioni pretestuose del conte zio e la storia come si chiude con una consistente prebenda data dal conte zio e dalla sua famiglia al convento e poi abbiamo la monaca di Monza quindi come vedete sono quattro figure che si alternano Federico Borromeo e il padre provinciale in qualche modo sono sempre stati così la monaca di Monza che fino a un certo momento fino al momento che non prenderà i voti è consapevole contenta del suo essere principessa appartenere a una famiglia principesca poi c'è l'evento traumatico appunto della presa dei voti e poi è entità dinamica come è stata la storia di padre Cristoforo perché passa da momenti di tenerezza amorevolezza e a momenti in cui fa davvero la badessa del suo convento a momenti in cui insomma diciamo il peccato il peccare è più forte della sua attività del suo essere quotidiano Federico Borromeo possiamo passare oltre e leggiamo velocemente vedo che l'ora si sta avvicinando ma ce la facciamo leggiamo velocemente frammenti della descrizione che Manzoni dà di lui la presenza di Federico era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la famiglia il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso non incurvato né impigrito appunto dagli anni l'occhio grave e vivace vorrei farvi notare come i personaggi di rango alto vengano designati e connotati anche dal loro sguardo vi ricordate l'altra volta abbiamo fatto riferimento agli occhi di Fra Cristoforo agli occhi della monaca di Monza e di nuovo qua gli occhi personaggi di rango più basso non hanno lo stesso potere quindi c'è anche il potere dello sguardo l'occhio grave e vivace la fronte serena e pensierosa con la canizie nel pallore tra i segni dell'astinenza della meditazione della fatica una specie di floridezza virginale tutte le forme del volto indicavano che in altra età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza l'abitudine dei pensieri solenne e benevoli la pace interna di una lunga vita l'amore degli uomini la gioia continua di una speranza ineffabile vi avevano sostituita una direi quasi bellezza senile che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato qui evidentemente siamo nell'incontro tra innominato e federico il suo sguardo penetrante di nuovo lo sguardo ed eserfitato dal lungo tempo a ritrarre dai sendianti i pensieri quindi uno sguardo indagatore che frura che comprende che capisce e sotto a quel fosco e a quel turbato parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio di una tal visita tutto animato oh di sé che preziosa visita è questa e quanto vi devo essere grato ad una si buona risoluzione quantunque per me abbia un po' da rimprovero elocuzio raffinato nel quinto canto dell'inferno ciò che contraddistingue Francesca è da subito l'eloquio colto e raffinato e questo eloquio si ritrova tra gli altri innumerevoli esempi anche in questa pagina vi devo essere grato è grande fine politico ovviamente anche Federico Borromeo l'innominato il potere positivo ma non è il potere dell'innominato no è il potere del giudizio divino è il potere di Dio quello che fa cambiare l'innominato certo l'inizio la la molla che dà inizio a questo percorso di cambiamento è l'incontro con Lucia è l'ascoltare la sua voce le parole che la dice guardare i suoi occhi non è Lucia che guarda è l'innominato che guarda e questo rientrato nella sua camera fa sì che il turbamento diventi potente perché viene sopraffatto come l'onda che travolge e pesa mi sto citando in qualche modo il 5 maggio del Manzoni travolge anche l'innominato la memoria dei suoi trascorsi delle violenze degli omicidi delle azioni criminali commesse oh certo ho qui qualche cosa che mi opprime che mi rode ma Dio se c'è questo Dio se è quello che dicono cosa volete che faccia di me il l'innominato qui ovviamente siamo ancora nella nell'incontro con Federico ma questi turbamenti quello che sta dicendo è quello che a voce dice dopo averlo provato in camera sua da solo atterrito perché vedete un termine che nel ventunesimo capitolo dei promessi sposi torna di sovente poi vedremo da dove deriva è il terrore la paura leggiamo in eretto sono voci di terrore sono voci di interesse voci forse anche di giustizia ma di una giustizia così facile così naturale alcune forse purtroppo di invidia di cotesta vostra sciagurata potenza di cotesta fino a oggi deplorabile sicurezza d'animo federico ha capito tutto e gioca la carta del dio giudice per portare fino all'estreme conseguenze cioè fino in fondo la conversione dell'innominato ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita ad accusare voi stesso allora allora dio sarà glorificato il grimaldello è dio è il richiamo alla divinità e badate questo grimaldello il ricorso a dio alla potenza di dio si ritrova anche in altro ambito e in un ambito di una creatura che come abbiamo anticipato ha potere perché lei appunto la molla che dà inizio al percorso di conversione dell'innominato siamo di nuovo siamo tornati indietro nella sera in cui l'innominato entra nella stanza dove è stata portata Lucia dai suoi sgherri e in cui è presente anche la vecchia Lucia dice ho maltrattata mi hanno presa tradimento per forza perché perché mi hanno presa perché sono qui dove sono sono una povera creatura cosa le ho fatto in nome di dio subito ecco il richiamo a chi davvero a suo avviso di chi è nel potere dio dio l'interruppe l'innominato sempre dio coloro che non possono difendersi da sé che non hanno la forza sempre hanno questo dio da mettere in campo come se gli avessero parlato e che cosa pretendete con questa vostra parola di farmi e lasciò la frase a mezzo signore pretendere ma cosa posso pretendere io meschina se non che lei mi usi misericordia ed ecco la frase dio perdona tante cose per un'opera di misericordia il potere io non ce l'ho ce l'ha colui a cui mi sto rivolgendo e che sto invocando mi lascia andare per carità mi lascia andare non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patire vadate non torna conto a uno che un giorno deve morire è una frase che apparentemente sfugge ma è fondamentale perché al giorno in cui dovrà morire pensa nella sua camera l'innominato di far patire tanto una povera creatura o lei che può comandare e dica che mi lascia andare mi hanno portato qui per forza mi mandi con questa donna a puntini dov'è mia madre o vergine santissima ed ecco che l'invocazione è anche per colei che intercede mia madre mia madre per carità mia madre forse non è lontana da qui ho veduto i miei monti perché lei mi fa patire mi faccia condurre in una chiesa pregherò per lei tutta la mia vita cosa le costa dire una parola o ecco vedo che si muove a compassione dico una parola la dica e ripete Dio perdona tante cose per un'opera che mi si ricorda io non ho il potere ma chi sta dietro di me e colui a chi mi rivolgo lui sì che lo possiede il la prossima schermata è la penultima di questo nostro incontro e la forza della fede il potere della fede che si unisce indissolubilmente al potere della sua innocenza fa sì che il terrore perché di terrore si parla anche per Lucia che ha provato fino a quel momento piano piano si quieti prese di nuovo la sua corona e rincominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata salto si alzò andiamo salto qualche riga si alzò e si mise in ginocchio e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona alzò il viso e le pupille al cielo e disse oh Vergine Santissima voi a cui mi sono raccomandata tante volte che tante volte mi avete consolata ecco il potere della consolazione voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati aiutatemi fatemi uscire da questo pericolo fatemi tornare salva con mia madre madre del Signore e fovoto a voi di rimanere vergine rinunzio per sempre a quel mio poveretto per non essere mai da altri che vostra come vedete per la seconda volta nei passi che abbiamo letto la figura della madre di Agnese avvicinata a quella di Maria madre e la figura di Maria che dal quarto secolo dopo Cristo è diventata la figura di colei che intercede iniziando un culto specifico in questa direzione pensiamo alla meravigliosa preghiera del trentatresimo canto del paradiso vergine madre figlio del tuo figlio e così via questa vicinanza questa umanizzazione di Maria colei che comunque ha un posto privilegiato di potere perché può convincere Dio a fare quello che l'umano chiede in modo che Lucia possa rivolgersi a un potere meno lontano di quel Dio che in un primo momento aveva invocato e ho messo una piccola schermata la morale della favola e dell'ultima Renzo siamo alla fine dei promessi sposi alla prima rimase impicciato dopo un lungo dibattere e cercare insieme conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione ma che la condotta più cauta e più innocente non basta tenerli lontani ritorniamo esattamente a quello che abbiamo detto all'inizio alle parole di Nausicaa insomma se vengono devi prenderli e che quando vengono per colpa o senza colpa la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore questa conclusione benché trovata da povera gente cioè gente non di potere che è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui come il sugo di tutta la storia e io qui chiudo e se lo desiderate iniziamo con le domande questa volta sono stata più brava e sono 17 5 ma fatele le domande concordate tutti con quanto detto nessuno dissente avete qualcosa da integrare io sono qui in attesa ricordatevi se parlate però di aprire il microfono perché altrimenti non si sente niente li vedo tutti chiusi in questo momento devo confessare che sono un po' stupita vedo dei nomi di persone che conosco e conosco bene Silvana Martina Anna Maria Federica Beatrice non volete davvero aggiungere qualcosa quanto detto che naturalmente è imperfetto si può dire in un'ora solo una serie di cose ma certamente non tutto ma io volevo posso sono Anna Madori buonasera buon pomeriggio a tutti io ho sempre avuto questa impressione ma ora anche attraverso questo escursus che ha fatto lei eccoci scusate che ha fatto lei mi è venuta una riflessione forte cioè che il potere è sempre si scatena sempre su un'ingiustizia il potere negativo ma è sempre l'umiltà e la questo questo finale no che lui mette a della povera gente che Manzoni mette a finale mi ha cioè chiedo se è giusto questa cosa che penso cioè è come se l'umiltà e la e la misericordia l'umiltà proprio e basta della di un di un ingiustizio di una di una vittima di ingiustizia scatena spesso una un ravvedimento una mi viene in mente quando quando Lucia viene portata portata al castello dell'innominato e c'è il bravo insomma che dice usa questa parola pietà no e l'innominato dice oddio lui ha usato pietà chissà cosa è successo non so se è stato chiaro quello che ho domandato se è chiaro quello che ho detto è chiaro io posso aggiungere una cosa mi chiamo Anna volevo aggiungere una cosa sul potere io faccio fatica a intendere il potere come positivo nel senso che il potere è sempre una forma di prevaricazione quella che lei chiama il potere di Federico Borromeo o di consapevole o di Lucia un potere inconsapevole a mio parere è forza è forza d'animo è capacità individuale di agire positivamente ma non potere cioè potere per me ha sempre una connotazione lo diceva anche l'intervento precedente di prevaricazione e di richiesta di sottomissione allora prima rispondo alla seconda e poi rispondo a Anna Amadori potere è un termine polisemico lo possiamo intendere in molti modi e attribuirgli accezioni diverse se parliamo di potere con la carica semantica che di norma attribuiamo a questo termine certo che la carica semantica è negativa l'altra volta correttamente ricordava parlavo di prevaricazione però non a caso oggi ho aggiunto il potere positivo perché il potere per esempio è anche quello di una madre che cura il suo bambino che ha il potere se gli nega da mangiare il bambino muore vuole dire il potere è anche da intendere la capacità per esempio di salvare la capacità di curare ho il potere di curarti il potere taumaturgico il problema è che lei ha fatto un'osservazione assolutamente corretta e pertinente ma per il fatto che oggi il potere è diventato quasi sinonimo è vero di prevaricazione di prepotenza di limitazione della libertà di espansione indefinita del proprio ego e questo è corretto però non ci possiamo dimenticare che appunto il potere io ho il potere di curarti tu sei malato io ho il potere di curarti posso curarti posso salvarti posso nutrirti posso educarti gli insegnanti hanno il potere di educare o di un potere oggi un po' limitato un po' di immediato però intendiamoci quindi è sempre un problema di quale carica semantica attribuiamo in un certo contesto in un certo momento al termine naturalmente se ha obiezioni da fare sono qua andando invece indietro e tornando alla domanda di Anna Amadori è una interpretazione la sua un po' troppo ottimistica in realtà la visione del potere di norma nei promessi sposi è una visione negativa la giustizia non esiste è una giustizia negata nei promessi sposi negata dagli uomini in qualche modo però rabberciata dalla provvidenza dal Dio che in qualche caso soccorre aiuta però mi fermo un attimo perché ricordo una domanda che è stata fatta ma che spesso viene fatta ma perché se Dio esiste permette tutto questo dolore questa crudeltà e questa sofferenza e Agostino e poi Manzoni che riprende Agostino dicono beh ma noi non sappiamo quale sia il piano finale divino la cosa d'Agostino era già passata per Dante come ben sapete e poi arriva fino a Manzoni perché magari da un evento che riteniamo una guerra un assassino una pestilenza una carestia che riteniamo negativa può nascere qualcosa di positivo e allora bisogna andare fino alla fine e vedere quale piano Dio avesse in mente riporto questo per cronaca perché io Agnostica ovviamente a un piano divino non posso credere ma devo riferire per correttezza di enunciato quello che è nella mente di Manzoni e nella mente di Manzoni nonostante questa sorta di tenerezza di dolcezza finale però c'è ben chiara una gestione pessima almeno della giustizia umana quella divina su quella divina poco possiamo dire perché non sappiamo se esiste in che direzione vada altre domande? vedo tanti nomi ma nessun volto mi piacerebbe moltissimo è piano pieno di nomi questo schermo vedere i vostri volti magari un giorno capiterà ci sono altre domande? Santelli si è aperta una finestra buonasera intervengo anche se il primo quarto d'ora in realtà me lo sono persa quindi non so se è qualcosa che è già stato detto scusate perché qui vedo Martina Ferré scusate ma poca linea non riesco ad accendere la telecamera oggi mi veniva il discorso che hai posto rispetto alle figure di potere mi suggeriva quel triangolo che emerge nel saggio di Calvino non so se l'avete l'hai citato prima perché mi sono collegata un po' in ritardo quindi non vorrei ripetere cose i due triangoli di Calvino sono le cose da cui siamo partiti perfetto allora scusatemi proprio mi spesso questa cosa comunque Calvino è sempre persona da ascoltare da leggere è chiaro che ogni schematizzazione riduttiva e parziale insomma dà una indica una strada ma naturalmente non racconta tutta la storia sì 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 i due triangoli il vero potere spirituale il falso potere spirituale l'abbiamo sì che era un bel collegamento insomma anche in questo in questo anno che aiuta anche Calvino peraltro certo vedo dei bellissimi volti ma silenziosi adesso mi stanno comparendo le schermate no la mia domanda è ma concordate con quanto detto almeno per diciamo l'ottanta per cento perché naturalmente ci sono giuste e necessarie differenze voglio dire a chi a chi mi può rispondere di queste cose ne parlate in aula mi riferisco in particolare ai docenti qualcuno mi risponde immagino di sì vedo un volto maschile Paolo Leoni uno fra tanti volti femminili professor Leoni mi sente no forse no non so vedo che si sta aggiustando le cuffie ma lo so va bene non ha importanza allora io sarei lieta posso magari risponderle io Antonella Rosa va bene Antonella Rosa ok allora sì io ne parlo con i ragazzi nell'introduzione a Manzoni che faccio ad inizio anno infatti adesso sto interrogando appena finito però tendo a sottolineare più che questo aspetto del progetto di Dio secondo me il fatto che Manzoni voglia riportare la negatività dolore del mondo alla libertà umana e quindi cerco di sottolineare quei ragazzi che in realtà e poi lo dimostro anche successivamente attraverso l'atteggiamento dei personaggi come dicevo anche l'altra volta sulla questione del perdono eccetera che in realtà è l'egoismo umano che crea diciamo il 90-95% dei problemi del pianeta poi però Manzoni arriva e questo si ritrova anche nell'introduzione dell'anonimo secentista alla fin fine a dire ma ironicamente ma al fondo di questa ironia forse c'è la verità di quello che Manzoni pensa ma c'è una parte di dolore che però effettivamente è spiegabile e che forse rispetto alla sua esperienza viene anche dalla morte della moglie Enrichetta probabilmente sollecitato da questa esperienza come tipo di riflessione e quindi poi ovviamente ognuno è libero di credere o non credere quindi lascio lì ai ragazzi il diritto poi di formarsi la loro opinione su se quella frase lì è ironica o meno quella insomma del potere demoniaco che deve essere per forza la causa del male del mondo perché con tutti i politici perfetti che abbiamo è possibile che non risolvano tutto insomma ecco quindi mi fermo lì e poi lascio la libertà ai ragazzi così come Dio l'ha lasciata l'essere umano ecco non lo so lei cosa ne pensa su questo mio modo di procedere penso che la sua posizione e la comunicazione sia assolutamente corretta non dimentichiamoci che il diavolo di cui si favela ormai da millenni è in realtà l'emblema delle forze negative che però sono forze diciamo naturali parlavo accennavo anzi in realtà alla tuche al destino al caso non bisogna dimenticare che la vita è fatta forse non dico soprattutto ma diciamo al 50% al 55 come direbbe Machiavelli di elementi casuali quello che naturalmente al diavolo spero che non ci creda nessuno anche se quest'anno ricorrono i 150 anni della morte anche di Francesco Domenico Guerrazzi che si colloca esattamente sull'altra sponda diciamo del romanzo storico e anche della visione del mondo che nei racconti storici di cui fa protagonista le donne sovente evoca la figura del diavolo alla radice dei comportamenti sbagliati degli omicidi degli assassini il diavolo che non è altro che ripeto un emblema fittizio ovviamente delle cose negative delle forze negative che capitano nella vita di ognuno in realtà a fronte e adesso riprendo la parola umiltà utilizzata da Anna Amadori all'inizio a fronte delle soperchierie il termine manzoniano del potere del potere negativo comunque del potere la vera forza non so se sia l'umiltà e anche qui bisogna capire che significato diamo alla parola umiltà è la capacità di diciamo di sopportazione di accettazione citavo inizialmente la sindrome del collezionista di ingiustizia ma se nella vita noi continuiamo a dire ma insomma come sono sfigato ce l'hanno tutti con me la mia vita è sfortunata e continuiamo a una lamentazio continua non si vive la non è forse l'umiltà ma io ritengo che sia la forza d'animo che nelle persone semplici può derivare dalla fede può derivare da una conoscenza forse più naturale più immediata della vita ho sentito una voce che si è inserita forse è venuto a me sono Vania Panfili mi veniva da dire la fiducia in Dio per chi ce l'ha è una molla fortissima cioè se uno ha veramente la fiducia che tutto quello che succede ha un senso e che ti dispone anche il dolore ti dispone a una vita migliore beh è una bella forza quindi questo indubbiamente sì la funzione delle religioni dovrebbe essere questa di consolatoria di rafforzare gli animi di permettere un'accettazione più serena della vita io ripeto nella mia visione del mondo mi rifaccio piuttosto all'acquisizione di una forza d'animo che si dovrebbe forse imparare da bambini nonostante tutto quello che ti succede cadi ti rialzi vai avanti cadi ti rialzi vai avanti con tutta la serenità di cui puoi disporre perché non tutti credono e quindi non può essere la fede soltanto la forza a cui aggrapparsi chi ce l'ha benvenga a patto che la religione sia elemento positivo e non ovviamente di distanza di divisione e quant'altro e io credo che ognuno di noi e questo però lo si può imparare disponga dentro di sé di una capacità sovente ignota di vivere perché la vita è il superamento costante di ostacoli non è la vita tutti appunto ricordavo anche l'altra volta tutti vissero per dice contenti non va così non funziona così anche per le vite più facili apparentemente perché i dolori nominati i dolori che apparentemente non hanno una causa ci sono costantemente per cui al di là si va benissimo se non ce la fai mettiti lì e prega e cerca di fuggione in Dio però se non credi da qualche altra parte la benzina la devi trovare e la devi trovare dentro di te la devi trovare nella ginestra Leopardi che è sempre stato pessimista per tutta la vita e in tutta la sua opera dice la solidarietà fra gli uomini e anche questo il dialogo fra gli uomini il chiedere il chiedere aiuto il dialogare il parlare l'appoggiarsi anche agli altri è una grandissima forza e questo anche questo va insegnato se non ce la fai da solo chiede aiuto o no? Assolutamente anche se Manzoni a me sembra che faccia vedere che chi non crede la forza la trova piuttosto nella prevaricazione nella violenza nei confronti degli altri come mostrano le figure appunto dei signorotti piuttosto che anche quella della monaca di Munza finale diciamo è una visione è una visione di parte devo dire esatto perché è una visione di parte giustamente essendo lui credente sponsorizza il suo credo chiaramente va bene va benissimo però è una parte cioè la misura laica dell'esistenza è quella in cui tutte le visioni per quanto numerose possano essere trovano posto e io credo potentemente in una visione laica del mondo ognuno ha il diritto di credere in ciò che a patto che ovviamente il termine finale lo scopo finale sia quello di una vita piena corretta e di una corretta e amorevole convivenza con gli altri che poi vuole dire alla radice delle religioni c'è questo se poi Dio c'è come dicevo se c'è c'è se non c'è lo so prima o dopo io lo so per dopo adesso non lo so ma anche il credente lo saprà dopo io lo so va bene ma questo non toglie la meravigliosa bellezza della vita perché vadate ragazzi questo va va trasmesso che la vita non è un affanno la vita è bellissima e la vita è proprio anche nel dolore e nella fatica anzi diventa più bella perché quando l'hai superata dici accidenti ce l'ho fatta ho scalato la montagna e sono in discesa perché la mia impressione e ho girato parecchie scuole nei mesi scorsi è che questi ragazzi abbiano bisogno disperatamente di credere che valga la pena vivere indipendentemente da tutto quello che accade ed è una grandissima forza cioè la felicità della vita c'è paradossalmente sembra un simero ma la felicità del dolore c'è io ricordo benissimo molti anni fa quando ero in un momento di terribile sofferenza per motivi uno mi disse beata te che stai male perché io so non sento niente cioè l'apatia è molto peggio del dolore è perplessa ma provo a pensarci così almeno sento almeno vivo cioè non sento niente che vi va a fare o no? sì noi i nostri ragazzi tutti i giorni sperimentiamo che corrono questo rischio anche perché sono appunto bombardati di questo o di situazioni concetti negativi o del nulla dell'agnosticismo e non si pretende ovviamente di dover passare concetti religiosi però un po' di bellezza ogni tanto un po' di gioia ogni tanto andrebbe passata invece ne trovano pochissima sul loro percorso ma abbia pazienza vuole andare sui social di roba del genere le parole parlavamo nella prima parte del nostro incontro della forza del potere delle parole ma le parole che vengono usate quali sono? niente è il vuoto sta trasmettendo il vuoto se un youtuber che manda la velocità la macchina a tutta velocità e fa anche vittime ricordate episodi che sono quest'estate ha migliaia e migliaia anzi decine di migliaia di follower è niente questa non è la vita questa è la parodia grottesca e farsesca della vita e questo va detto con forza perché leggere una poesia ascoltare della musica stare abbracciata alla persona che ami guardare un paesaggio e aiutare gli altri sono elementi di una bellezza assoluta perché i ragazzi non trovano non sanno ecco o glieli diamo noi questi stimoli o non li trovano quindi aumenta sempre di più l'importanza dell'affronto con l'insegnante di quello che l'insegnante ha il potere di fare il potere appunto tra virgolette appunto parlavamo di potere positivo esiste certo di potere positivo lasciarli riflettere ma farli incontrare la bellezza ed è sempre più difficile perché anche se uno propone qualcosa c'è sempre una certa diffidenza anche da parte delle dirigenze di dire ma perché parlate di questo perché volete andare a vedere quest'altro piuttosto fate altro e si tenta anche certe volte di mettere come dire dei paletti a quella che invece dovrebbe essere la libertà docente e allora diventa una lotta anche questa di cercare di passare il bello invece che il grave diventa difficile perché bisogna passare il grave vabbè comunque ci porterebbe lontano il discorso la bellezza sta anche nel smettere di stare seduti per molti dirigenti alcuni no sono straordinari eccezionali ma molti dirigenti scolastici perché fare questo che costa fatica perché fare questo che non è previsto perché fare questo che può essere l'elemento di disturbo e invece no nuovo va affrontato e anche il faticoso va affrontato insomma provare fatica accidenti è un elemento potentemente vitale non è negativo o no o mi sbaglio un'altra cosa che passa è la paura della fatica per questi ragazzi perché devono ottenere tutto subito e senza fatica e i loro primi sponsor sono i genitori in questo senso purtroppo la generazione adesso sarà tra i 40 e i 50 55 non lo so è una generazione non so è come se fosse senza midollo spinale sono successe probabilmente negli anni 80 90 che sono gli anni insomma in cui molti saranno nati negli anni 70 sono successe velocemente troppe trasformazioni per essere metabolizzate correttamente e purtroppo sapere la cultura la conoscenza che sono il nervo della storia delle società vengono come messe da parte insomma troppe ragazzine si mettono in disabie e roba del genere e poi si postano sui social per avere ah ho 10.000 100.000 follower che te ne fai e poi fra 10 anni che fai della tua vita signori sempre tiranno sono alle 17.32 vi adoro la prossima volta se sì vi aspetto giovedì alle 4 sempre grazie sempre grazie 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 ciao 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 a tutti ciao ciao ciao